Ciao, sparire dopo il primo appuntamento, quando per un uomo è il caso di farlo? Prima di approfondire questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, anche per un uomo conviene ogni tanto sparire dopo il primo appuntamento. Quando è che deve farlo? O che dovrebbe farlo? Allora, anche qua quando incontra una donna eccessivamente appiccicosa che già dal primo appuntamento inizia a parlare, io vorrei una famiglia, figli, una relazione stabile, inizia subito a martellare da quel punto di vista, guarda che se tu non vuoi una relazione stabile vai pure, inizia subito senza neanche conoscerti a fare, diciamo, a mettere subito, a impostare subito tutta una serie di vincoli logico-razionali. Il secondo caso è il caso in cui questa donna, diciamo, si presenta già al primo appuntamento un po' trasandato, quindi magari con la ricrescita nei capelli, le unghie con lo smalto già usurato, insomma, i capelli non curati, un po' trasandata nell'abbigliamento. Questo è indice, diciamo, che comunque non potrà che peggiorare da questo punto di vista nei appuntamenti successivi, per cui talvolta ci sono anche donne che potrebbero essere potenzialmente belle, ma che proprio non si rendono conto della trascuratezza, diciamo, e si presentano in modo trasandato. Poi un'altra sono quelle che se la tirano eccessivamente, che iniziano a dirti, ah, io vado sempre in vacanza a Monte Carlo, ho degli amici che mi invitano sulle barca, o qua o là, o mi portano in giro, quelle che si credono, insomma, un po' delle principesse, è queste qua, che se la tirano ti faranno solo perdere tempo, quindi è meglio lasciarle stare, è meglio lasciarle perdere, insomma. E poi un'altra categoria è quella, a meno che non ti piace il tipo, diciamo, è quella che si presenta in modo molto mascolino e competitiva con i maschi e inizia a dire, beh, intanto sono le donne un po' falliche, diciamo così, tra virgolette, che vogliono sostituirsi al maschio in tutto e per tutto, insomma, anche dal punto di vista della competizione e iniziano a, come dire, a parlare male, insomma, dei maschi in generale, a generalizzare. Ah, voi uomini siete così, voi uomini siete cosà, tutti gli uomini sono uguali, bla bla bla, tutto questo modo di fare, diciamo, sono donne che comunque alla fine darebbero problemi, insomma, ecco, queste, se incontri una tipologia di queste, ti conviene, secondo appuntamento, non andarci neanche, insomma, sparire dopo il primo. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Ciao a tutti!